pullman bus e trenini turistici trovano posto sulla via garibaldi da qualche giorno su una delle più importanti strade della città si è dato spazio ai mezzi che accolgono i turisti proprio a pochi metri dall'approdo per le crociere e anche oggi sono stati tanti gli stranieri ad arrivare in città accolti dalle guide turistiche o pronti ad accomodarsi nei locali cittadini esplorando poi messina autonomamente e adesso pullman bus e trenini possono sostare a pochi passi da dove arrivano i turisti in pieno centro pronti a portarli in giro sfruttando gli stalli temporanei disegnati appena pochi giorni fa sulla carta o meglio sui cartelli si parla di una sosta di 15 minuti che garantirebbe a tutte le varie ditte di sfruttare gli stalli e in effetti il ricambio si nota alla domanda rivolta a una delle guide riguardo l'eventuale presenza di qualche auto parcheggiata senza autorizzazione però con un sorriso c'è stato detto che è capitato anche se poche volte e gli stalli per i pullman sono presenti anche al duomo sul corso cavur sebbene siano soltanto due e i turisti oggi molti ragazzi in gita da scuole del centro e del nord siano costretti a scendere al centro della pista ciclabile disegnata a bordo strada e proprio oggi al duomo c'è chi ha dovuto destreggiarsi tre decine di auto sì perché la piazza era stracolma di vetture a causa della messa crismale tenutasi stamattina in cattedrale rinviata due settimane fa causa covid